buongiorno oggi non dico di prima mattina ma di seconda mattina si sale verso erice guardate che paesaggio mozzafiato salita giustamente erice guardate si va si cerca di tenere il ritmo laggiù in fondo sempre mio fratello vi lascio sempre con questo bellissimo paesaggio guardate ci vediamo dopo bye bye